Sull'Italia peninsolare è presente un anticiclone, viceversa a nord delle Alpi c'è una depressione. Con questa situazione sulla nostra regione nel fine settimana avremo un afflusso di correnti occidentali che saranno più instabili sull'area alpina, specialmente di pomeriggio. Nel dettaglio per le giornate di sabato e domenica avremo cielo in genere sereno, poco nuvoloso sulla costa con venti di brezza più sostenuti nel pomeriggio, cielo in genere poco nuvoloso in pianura e anche in montagna al mattino, poi nel pomeriggio, probabili rovesci temporali sparsi in montagna, è possibile che qualche episodio isolato ci sia anche su qualche zona di pianura. Temperature massime intorno ai 29-30 gradi in pianura, 26 sulla costa, massime di 22 gradi sulla costa, intorno ai 18 per quanto riguarda la pianura. Per l'inizio della prossima settimana ancora tempo determinato da un'instabilità pomeridiana dovuto ai temporali probabili in montagna e possibili anche su qualche zona di pianura. Temperature che rimarranno più o meno stazionare sui valori attuali. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA, un saluto da Marcellino Salvador.